Lavori in notturna per la zona della rotonda di piazza Santa Maria di fronte alla Torre Matilde a Viareggio. 900 metri di asfalto che verrà steso tra questa notte e la prossima per ricongiungersi e completare il lavoro di Viareggia. Per garantire il corretto svolgimento dei lavori verrà chiuso il traffico sul vecchio Cavalcavia in direzione mare dalle 21 di stasera 19 aprile alle 6 di domani 20 aprile e dalle 21 di domani 20 aprile alle 6 di venerdì 21 aprile. Nelle stesse ore sarà inoltre vietata la circolazione esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione dell'asfaltatura sulla intersezione via della foce piazza Santa Maria in via della foce nel tratto compreso tra la piazza Manzoni e la piazza Santa Maria oltre all'interdizione della via Veneto nel tratto compreso tra la via Regia e via della foce. Sosta vietata con rimozione coatta infine in piazza Santa Maria oggetto dei lavori di riasfaltatura su tutta l'area dalle 21 di stasera 19 aprile alle 6 di domani 20 aprile e dalle 21 di domani 20 aprile alle 6 di venerdì 21.